Lovidio è una cacata Siamo qui a fare un altro video Che popposo Che popposo Non abusate mai di una ragazza ubriaca E se arriviamo a mille like Preparatevi per la parte 3 Cosa abbiamo visto? No Basta Ciao a tutti ragazzi Benvenuti a un nuovo video Un nuovo video con Gogo Gogo Cosa stiamo a fare? Beh abbiamo appena fatto la lavatrice Come potete vedere E non sapevamo doveva prendere le cose E avevano detto così Io soffro di vertigini Una paura pazzesca Ma siamo qui a fare un altro video Che popposo Che popposo Bene perché non abbiamo niente da fare Oggi ho deciso di fare un video reaction A un canale sul kpop Ma sembra a me oggi stiamo sempre Secondo me si ci stiamo stortando sempre di più Però come al massimo Al massimo si Noi ci spostiamo di conseguenza Se cade la telecamera tranquilli Tanto mi è durata 3 mesi Quindi ormai Il suo lavoro L'ha fatto Allora iniziamo con questo canale Che mi è arrivato tra i suggeriti Si chiama Yonggi Prutti di mare Scusate E siccome sono due giorni Che rido per un video Ho detto Cazzo ve lo devo fare vedere Siete pronti Per la visione? Aspetta che guarda Si controlla l'audio Comunque ho sempre avuto il dubbio Se il filtro per il computer funzionasse sugli occhiali Ma devo dire che siccome ho le lenti blu Probabilmente funziona Ah però che scemo Mi è venuto in mente che devo mettere le cuffie Iniziamo con questo video Si chiama Litigata Nanjim al palò di confronto Già Nanjim non mi piace BTS Temptation Island Che è un programma che guardiamo sempre Voi lo guardate Iniziamo col video Non so di cosa stiamo parlando Ma è troppo credibile Non va a farlo Dico io Ma come l'hanno fatto bene il doppiaggio No ma sai cosa Io vorrei vedere l'originale Vabbè ma mai far ridere i gine In partenza c'è questo generino Vuoi vedere un altro? Qualcosa con J-Hope ti prego Si ok vediamo Lei è il suo preferito in J-Hope Piacciono tutti Pensavo che dicevi Allora vediamo Aspetti là con sta cosa del ho Vabbè apriamone un altro a caso dai Apriamo questo Apriamo un mangioglio o questo? Questo Ok Giappu con gli occhiali posticci ci piace Ok va bene Apriamo questo Questo è il video che si chiama Pratiem Jimin Highlight reel Highlight reel on crack Se non far ridere non mi Non lo faccio Già Yonni Yonni E' carinissimo Vi prego fatelo anche con i miei music video Adesso apriamo un video che c'è stato consigliato sempre di Secondo me è lo stesso Perché è Yonni No questo è Yonni Però non è Yonni E brutti di male Adesso apriamo Se i BTS fossero uomini e donne Vediamo questo Trasmissione che non ho mai visto Quindi non so di cosa si sta parlando Dire la verità che Tina Cipollari E' la tua attrice preferita E' un'attrice? Non lo so però sicuramente So solo basta Maria io riesco Eh? Vabbè non è importante Opinionisti Suga Jin Ok Suga Bella foto Io ce l'ho salvata sul cellulare quella foto Perché la uso per qualsiasi cosa Presentazioni Visita che ci sa stare un gran bene Jimin Jimin quello già Non si riesce a dire Presentazione Te la farei Questo qui è andato veramente a A umine donne No Ha fatto BTS run In cui ha fatto la passerella conci Come dei cretini Era meraviglioso Quell'episodio era meraviglioso Questo l'altro sono pigiame di Yonni Che due imbecilli Tronisti Oh RM Fa il tronista Non l'avrei mai detto Più gay di Alfonso Signorini Tra le caratteristiche Guarda com'è Com'è Oh Però Ha 148 di IQ Il nostro RM Eh sì RM è un genio Guarda come lo sfoggia in questa passerella Direi che 148 di IQ Ben utilizzati Bene direi Sì Secondo me torna Tra l'altro sappi che lui perde i duelli contro le cipolle Quando tenta di tagliare le cipolle Le cipolle vincono Condotto da Hope J-Hope Vediamo Che sarà il suo No non lo dico I'm your host In quel caso No Che battuta orrida in cielo Let it go Staglia Greg Vabbè oddio Anche questo video Sa delle battute pessime Io 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 vi capisco ragazzi Presentazione Ma basta E ora tutti insieme Adesso ancora Senti che si tirano con la canzone No basta Ma perché Ma c'è Succede anche qualcosa nel video No Si dice così Cosa abbiamo visto Il tuo video è una cacata Vabbè finiamo con un video Adesso di DJ Osama Osma c'è scritto Si Di DJ Osma Perché Osama Non si sa E concludiamo così Che lui Praticamente è molto simile ai BTS Versone giapponese Molto simile Eh Devi guardarlo Secondo me i BTS Sono ispirati a lui Molto simile Vedi c'è il monte Fuji Ecco i BTS Cazza la meraviglia direi Madonna si Sono le IKB Versione maschile Non l'hai mai vista fare ai matrimoni questo ballo? Si c'era il bacco del cartone Polon Che lo faceva sempre Eh ma questo realmente lo fanno sempre ai matrimoni in Giappone Sempre no Beh stessa Capita che lo facciano si Però Come dirti Non avevo voglia di vederlo Vabbè ragazzi Questo era il canale che vi abbiamo consigliato oggi Il video molto divertente Non so se ha fatto ridere solo noi O anche voi Che altro vuoi aggiungere? Vuoi aggiungere qualcosa Dopo aver perso 20 minuti A fare questo video Di cui ne useremo due Perché l'unico video divertente Che abbiamo visto oggi È stato il primo Ehm No Guidate con prudenza Guidate con prudenza E a queste parole Chiudiamo questo video Meraviglioso Ciao e alla prossima Ciao ciao Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Seraphimini In i maggiori digital store E poi rompi il cellulare Ragazzi c'è l'arcobaleno Ma non si vede però da questa telecamera Guardate È su 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 E va giù fino lì Mamma mia Io non ho mai visto un arcobaleno così grande È bellissimo Dai di qualcosa Di qualcosa Rainbow Ciao Rainbow Oh andiamo a cercare la pentola d'oro La pignatta d'oro Del folletto La sai la storia? No Baby mi dispiace Abbiamo avuto la meglio Baby in una luce di città In una luce amorosa di città Il tuo amore Più il mio amore È super amore Einstein sarebbe fiero Non negare che il nostro amore È R al quadrato P Di nuovo Einstein applaude Dall'aldilà Sì sì Mi piace questo Mi piace quello Mi piace quello Mi piace quello Beh perlomeno Si accontentano di tutto Non fanno le schizzinose Voglio davvero toccarmi Voglio davvero toccarmi Wow Tu ingrandisci ingrandisci il mio cuore Come un razzo E chissà cos'altro Il mio amore più grande del pan di zenzero Vitalità di un uomo Che qua alco la fiume E ne scrive ste robe Sono già pronto Sei un po' ubriaca piccola Sono già pronto Sei molto sexy piccola Pubblicità progresso Non abusate mai di una ragazza ubriaca Che qua alco la fiume